Vediamo un po' come i dati si sposano con la psicologia e la parte umanistica delle persone e per parlarne oggi abbiamo niente un po' di meno che Chiara Baciglieri, grazie Chiara, facciamoli un applauso anche a Chiara, ciao, va bene, va bene qua, Baciglieri mi sbaglio sempre, ecco a te il microfono e allora, se funziona solo, prova prova si funziona, Ok, Chiara è la head of data, quindi responsabile dei dati, di questa Life Feed, un'agenzia che è in crescita, fanno delle cose molto molto interessanti e mi è sempre stupito il fatto che, ma ve lo dirà lei, per essere un data scientist, avere delle competenze informatiche molto molto profondite, dipende, perché invece Chiara ad esempio che lavora ad alti livelli più che in informatica è molto competente in altre cose. A te, tu riconto e poi ti farò un po' di domande. Direi che in informatica sono abbastanza una schiappa. Allora, intanto vediamo come si usa questo. Perfetto. Bene, grazie a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi e grazie Giulio per l'invito. Grazie. Dunque, lavorare con i dati, siamo abituati a sentir parlare di che cosa serve avere, di cosa serve saper fare per lavorare con i dati e di quali siano le opportunità poi che ci consente questo tipo di disciplina. Io oggi vorrei darvi una prospettiva un po' diversa, che invece è che cosa non sempre serve per lavorare con i dati. Io non avrei mai pensato di lavorare con i dati quando ho scelto il tipo di università che ho scelto, che Giulio vi ha anticipato prima. Quindi, pensando alla mia esperienza, ma anche all'esperienza di tutte le persone che lavorano con me, che hanno lavorato con me in passato, ho individuato tre cose che siamo convinti servano necessariamente per lavorare con i dati, ma che invece, dal mio punto di vista, non sempre servono. La prima, non sempre serve avere una laurea in ingegneria, in informatica o in matematica. Anche se mia mamma avrebbe tanto voluto che io mi laureassi in ingegneria, informatica o matematica, purtroppo per lei. Matematica era la materia che studiavo più di tutte al liceo e prendevo sei, al massimo sei e mezzo. ECDL sono stata l'ultima persona nella mia classe a passarlo dopo nove volte e alla fine il professore mi ha suggerito le risposte pur di farmi passare l'esame di Excel, a proposito. Quindi non mi ha suggerito le domande, mi ha suggerito le risposte. Io ero appassionata di italiano e di filosofia e basta, di queste due materie. Però mi sono appassionata durante il liceo di una materia che non ci veniva insegnata, che è la psicologia. Me ne sono appassionata leggendo questo libro, che consiglio a tutti, a prescindere da che cosa facciate, da che cosa vogliate fare in futuro. Lo consiglio a tutti perché l'interpretazione dei sogni di Freud è un libro che vi aiuta a interrogarvi sul perché delle cose e su che cosa sta dietro ai nostri comportamenti, ai nostri pensieri, che è una competenza fondamentale e qualsiasi lavoro voi facciate. E poi mi sono innamorata, cioè io al liceo non mi interessava praticamente di nulla ciò che veniva insegnato, ma di materie esterne, quindi la psicologia e il marketing. Mi sono accorta che di tutti i perché che stanno dietro ai comportamenti umani, quello che più mi interessava cogliere era il perché che stava dietro ai comportamenti di acquisto. Quindi quali sono i meccanismi psicologici che ci portano a acquistare un certo prodotto, a sceglierlo, a scegliere un brand rispetto a un altro. Ricordo ero abbastanza piccola, guardavamo i cartoni animati io e mio fratello e c'era la interruzione pubblicitaria, chiamata interruzione come se fosse una seccatura. E io invece mi rendevo conto che per me era molto più interessante del cartone animato che stavamo guardando. Forse ha influito anche il fatto che li sceglieva sempre lui, però mi incuriosiva a cercare di capire che cosa mi portasse a desiderare un giocattolo che se me l'avessero messo lì davanti senza la storia e quella cornice non mi sarebbe mai potuto interessare. Vedi la Barbie. Quindi purtroppo per mia mamma ho scoperto che esisteva un corso di laurea chiamato psicologia per le organizzazioni e per il marketing a Padova e poi in cattolica. Un corso che all'epoca era, quindi stiamo parlando, quando mi sono iscritta era il 2011, era un corso sperimentale, era il primo in Italia. Mia madre non felicissima dal momento che nella sua mente qualcosa di nuovo e di un po' avanguardistico equivale a dire non troverai mai lavoro perché non c'è un mercato del lavoro per quello che tu stai andando a fare. Però insomma diciamo che non sono nota in famiglia per aver scelto i consigli di, per aver seguito i consigli di mia mamma. Che cosa succede? Succede che faccio questa università, esco dall'università e sorprendentemente ci sono delle belle opportunità anche per chi ha fatto questo tipo di studi. Faccio vari tipi di colloqui tra le cosiddette Big Four, agenzie di pubblicità molto grandi, comunque tutte multinazionali. Big Four che loro non le conoscono sarebbero... Sì, abbiamo Deloitte, McKinsey, Accenture, EY. Grandi società di consulenza. Società di consulenza, sì. Sorprendentemente quindi le opportunità c'erano, ma ogni volta che facevo il colloquio avevo una specie di sensazione e cioè che ad attendermi ci fosse un ruolo abbastanza ben definito già da qualcuno. Cioè abbiamo bisogno di questa figura che faccia dalla A alla F. Queste sono le cose, noi ti formeremo per fare queste cose e per essere produttiva in queste attività. Al che io avevo il brutto vizio all'epoca, presa dall'ansia di non trovare lavoro, di mandare CV a raffica. Cioè di mandare CV anche, mi ricordo, mandavo CV per posizioni da C-level, ero completamente fuori controllo, C-level come dirigenti, cercavo per uno stagio. Ma perché mia madre mi aveva... Per il tuo primo lavoro volevi diventare il capo dell'azienda? Perché il punto è che andavo sulla quantità, perché mia mamma mi aveva messo talmente l'angoscia che non avrei mai trovato lavoro con quel corso di laurea sperimentale che io mandavo CV a raffica insomma per cose che mi interessavano più o meno. Poi hanno inventato quella cosa malefica per cui puoi mandare direttamente il profilo LinkedIn senza neanche mandare il curriculum quindi talmente facile che io ho veramente fuori controllo. Mando un CV a una società che si chiama Neo Experience, si occupa di tecnologia, è un software che offre, permette di offrire servizi di marketing alle aziende, in particolare di digital marketing. Vado a fare il colloquio, cercavano una persona che scrivesse sul blog dell'azienda, un blog che si rivolge a esperti di digital marketing. Io ho pensato dentro di me, ma abbastanza... Durante il colloquio io ho parlato di tutt'altro, cioè ho parlato di Freud, di psicologia, un po' di quello che mi pareva. Perché avevo capito che non mi interessava più di tanto, ho pensato vabbè a questo punto farò la scelta che mi fa curriculum, quindi sceglierò la grande azienda, quello che mi posso spendere un domani perché ho fatto una gavetta della Madonna. Però il responsabile marketing alla fine del colloquio mi dice, guarda Chiara, io ho capito che di nuovo per l'ennesima volta non ho trovato la figura che mi aiuterà in quello per cui ho bisogno, però dalle cose che tu mi hai raccontato, che non c'entravano nulla con il colloquio, sento che potrebbero interessare al nostro amministratore delegato. Quindi ti invito a fare un colloquio con lui. E io dentro di me ho pensato, ma certo, assolutamente. L'amministratore delegato si chiama Dario, Dario Melpignano, un uomo estremamente visionario, che da giovane ha lavorato con Steve Jobs, o meglio per Steve Jobs, però comunque insomma Steve Jobs, una persona totalmente sopra le righe, tant'è che durante il colloquio con lui, lui mi parlava di tecnologia, mista filosofia, mi parlava di cose che non riuscivo assolutamente a capire, ma l'unica cosa che sono riuscita a capire aveva proprio a che fare con i dati. Cioè a un certo punto lui mi disse, c'è un trend in questo momento che noi dobbiamo cavalcare, che è quello della personalizzazione della digital customer experience, qualche cosa che un po' di anni fa era qualcosa di nuovo, perlomeno in Italia, oggi è ovviamente un must have per qualsiasi azienda, non solo per qualsiasi brand che si muove sul digitale, per chiunque. E quando lui mi ha parlato di personalizzazione dell'esperienza di un utente, la mia prima domanda è stata, ma sulla base di che tipo di dati? Perché nella mia testa il dato più importante, venendo da psicologia, era il dato di natura psicologica. E dalle sue risposte invece, scusate, saltavo questo punto perché io non ero assolutamente esperta di tecnologia, ma anche oggi sono abbastanza poco nonostante abbia sempre lavorato in aziende tecnologiche. La risposta di Dario è stata questa, questi sono i dati che le aziende utilizzano per lo più per personalizzare l'esperienza di un utente che accede a un sito web, a un e-commerce, a un'app. Dati sociodemografici, dati geografici, dati legati al touch point che questo utente ha mostrato di preferire, dati di terze parti, in alcuni casi addirittura dati ambientali, lo fa benissimo, non mi ricordo se è QA o Timberland, quindi dimostrare un prodotto anche diverso in funzione della temperatura e del clima che c'è nel luogo in cui tu ti trovi. Comunque tutti dati abbastanza hard, così mi piace definirli, dati che descrivono più che altro un consumatore, un profilo di consumatore, più che invece una persona. Il mio punto di vista era proprio questo, sulla persona, perché un bravo venditore, quando tu entri in negozio, perché è così efficace, se è veramente bravo, perché ha quelle capacità empatiche che sono legate al comprendere quali sono i tuoi desideri, i tuoi bisogni, che cosa ti motiva, qual è la tua personalità, per esempio, pensiamo a un negozio di abbigliamento. negli esseri umani sì, nelle piattaforme digitali, SNI. E quindi mi sono chiesta, ma se noi a questo tipo di dati integrassimo questi altri dati, che sono dati di natura psicologica tipicamente in possesso di un essere umano dotato di questa competenza soft fondamentale che è chiamata empatia, che poi sono uno dei motivi per cui la comunicazione umana è così più efficace rispetto alla comunicazione mediata dalle piattaforme digitali. La comunicazione mediata dalle piattaforme digitali privilegia l'efficienza, il gran numero di persone raggiunte in poco tempo rispetto all'efficacia di un bravo venditore, di qualcuno che sa veramente essere persuasivo. E quindi mi chiesi, che cosa succederebbe se provassimo a rendere le piattaforme digitali più empatiche, un po' come gli esseri umani. Bisognerebbe creare un modello di intelligenza artificiale, un algoritmo che è in grado di raccogliere dati sui comportamenti degli utenti, sul digitale, e di ricavare questo tipo di informazioni. Ho detto sì sì, non ho la più pallida idea di come fare. Questo sempre durante il colloquio. E lui mi disse, io non ho ben capito come farai, però tu vieni qui e per me hai carta bianca. Ed è stato effettivamente così, nel senso che io mi ricordo che in quel periodo non avevo niente da fare. Dico una cosa strana, può sembrare strana perché quando tu entri in stagi in un'azienda c'è questo stereotipo per cui sei una persona che viene tra virgolette anche un po', non voglio dire sfruttata, però insomma ti viene dato un carico di lavoro abbastanza importante anche per testare le tue capacità. Io invece non avevo niente da fare perché avevo una persona che mi aveva detto, io non so bene come farai, però tu vieni qui e hai carta bianca. Ed è stato veramente così. Allora ho iniziato a studiare perché avrei dovuto un domani, se quell'idea fosse stata approvata, avrei dovuto guidare il team tecnico, quindi un team di data analyst e soprattutto di data scientist e di programmatori. Persone per le quali la psicologia, perlomeno in quell'azienda, non era nemmeno considerata una scienza. Quindi vi lascio immaginare lo scenario di questo team di 30 sviluppatori dell'est Europa che si trova una ragazzina di 24 anni che gli parla di psicologia e dice che adesso il prodotto dovrà diventare un'altra roba. Bene. Cosa ho fatto? Ho studiato, ho cercato riferimenti scientifici usando quello che mi ha salvato anche durante la tesi di laurea, Google Scholar, cercando articoli che dimostrassero scientificamente che la personalità di ognuno di noi, influenza il nostro modo di acquistare, influenza le nostre preferenze quando si parla di acquisti. Quindi per esempio ho trovato articoli che parlano di questo tratto della personalità, che si chiama bisogno di unicità, che è una caratteristica che alcune di noi hanno e che identifica tutte quelle persone che fanno di tutto, anche nei loro comportamenti di acquisto e soprattutto quando si parla di moda, di distinguersi dalla massa. Quindi tendono a essere iniziatori e iniziatrici piuttosto che imitatori. Tradotto in altri termini sono persone che tendono più a fare la moda che non a seguirla. Poi c'è sempre in psicologia un altro tratto della personalità, ho dato un nome non casuale perché io appartengo più a questa tipologia di persone che hanno un alto bisogno di appartenenza. Quindi se Eleonora che abbiamo visto prima è una ragazza che si acquista un vestito e poi lo vede indossato da qualcun altro a una festa o per la strada, si innervosisce, quasi se potesse tornerebbe indietro e ne acquisterebbe un altro. Lei fa l'esatto opposto, lei lo va ad acquistare proprio dopo averlo visto indossato da altri, per esempio le influencer sui social, per tornare ai discorsi di Marco. Lei tende a essere imitatrice piuttosto che iniziatrice. Bene, qui viene il bello, nel senso che come si crea un algoritmo che è in grado di ricavare dall'analisi dei dati, del comportamento di un utente su un e-commerce, di moda, come si fa a ricavare un profilo di questo tipo? Attraverso l'intelligenza artificiale. Ma è un'intelligenza artificiale che si combina con la conoscenza di dominio legata alla psicologia. Noi quello che siamo riusciti a creare, questa era una newsletter che abbiamo creato per uno dei primi clienti, perché poi questo prodotto è stato realmente sviluppato ed è diventato il prodotto dell'azienda. Oggi il payoff dell'azienda è Empathy in Technology, dovrebbe essere Empathy in Marketing through Technology, però fa schifo, quindi Empathy in Technology è meglio. Questa è una newsletter vera e questa è una newsletter che per esempio parla a una persona che ha un alto bisogno di appartenenza, perché dice questi sono i must di stagione. Non perderti i capi iconici adorati dalla community delle clienti e ti propone dei total look indossati da influencer e celebrity. Questo è molto efficace con una persona che ha un alto bisogno di appartenenza, ma come può funzionare con una persona che invece fa di tutto per sentirsi unica e distinguersi dagli altri. Ecco che per lei... No? C'è un po' di problemi quel... Adesso ogni tanto va via la... C'è anche uno spoiler qui. Ok. Ho capito che... Devo premere lentamente. No, non devo premere affatto. Qua si vede. Guardate, guarda Chiara. Guardate qua. Ah, lì si vede? Ok. Ok, questa invece è la newsletter che è stata pensata, ma la newsletter è un esempio, si può parlare della home page di un sito web, si può parlare di qualsiasi comunicazione. Questa è una newsletter pensata invece per chi ha un alto bisogno di unicità e in questo caso, e devo avvicinare perché la mia vista... Non sono giovane quanto voi, non so, perdo vista a vista d'occhio. Vuoi essere la prima a indossare i capi della nuova collezione? Il concetto di essere il primo a fare qualcosa è un concetto che richiama l'essere iniziatori, non l'essere imitatori. Il concetto di esclusività, qualcosa di esclusivo, di raro, anche il concetto di pre-sale, quindi i prodotti che arrivano a te prima che agli altri clienti, è un concetto che si abbina bene a questo tratto della personalità che è il bisogno di unicità. Fai risaltare la tua personalità con un capo che è tutt'altro che classico e tradizionale e anziché proporti dei total look già indossati da altre persone e anche noti, visto che si tratta di celebrity e di influencer, quello che ti viene proposto è di personalizzare il tuo outfit, quindi di crearlo in modo tale che sia unico, che sia inimitabile. In questo caso, in questo caso sì, io ero responsabile dati, ma non analizzavo dati. Io in questo caso la mia analisi era a monte e a valle dell'attività del data analyst e del data scientist. A monte, perché bisognava decidere che cosa è rilevante per, abbiamo citato Max Mara, prendiamo un qualsiasi brand di moda per stare nell'esempio, che cosa è importante conoscere dal punto di vista psicologico di quei clienti e di quelle clienti? Bisogno di appartenenze e di unicità sono due caratteristiche rilevanti in questo settore, ma pensiamo al mondo delle banche e delle assicurazioni. Ce ne frega veramente qualcosa? No, forse è più interessante conoscere altri tipi di dati psicologici, come per esempio la coscienziosità, dal momento che è positivamente correlata al fatto di saldare i propri debiti e non invece di indebitarsi con la banca. Quindi ci sono caratteristiche degli esseri umani, caratteristiche della nostra personalità, che è qualcosa di estremamente ampio, che intervengono guidando i nostri comportamenti in misura maggiore o minore in contesti diversi. Ecco, questo tipo di conoscenza è quello che occorre avere per chi fa il mio lavoro. Che cosa cerchiamo? Chi lo cerca poi? Chi costruisce il modello di intelligenza artificiale, l'algoritmo in grado di ricavare questa informazione che tu hai definito essere rilevante? Le persone che lavorano con me, che hanno una conoscenza appunto più verticale e sono anche capaci di farlo. Poi dove interviene il mio ruolo, il mio lavoro? A monte e a valle. Cioè come usiamo questa informazione? Ora che abbiamo un algoritmo in grado di ricavare questo dato, come lo utilizziamo? In che modo personalizziamo un messaggio in funzione di queste caratteristiche? Questo è marketing e questo è di nuovo parte del mio lavoro. Se non che a un certo punto, molto bello, molto affascinante, molto nuovo, l'azienda si è quotata in borsa, abbiamo raccolto 11 milioni di euro, ho fatto il road show, è stato tutto bellissimo, però a un certo punto scoppia la pandemia. E durante la pandemia sarà capitato a tante persone, anche a tanti di voi. Io mi sono sentita un po' in crisi, cioè ero lì, avevo 28 anni, guidavo un team di 10 persone che facevano cose che io manco sapevo fare. Ero in una posizione abbastanza privilegiata, perché l'azienda aveva fatto del suo prodotto, del suo posizionamento distintivo la mia idea, che mi piaceva tanto, mi affascinava, mi piaceva il che cosa, ma poi tutto questo dove andava a finire? Ad aiutare Max Mara a migliorare le conversioni, ad aiutare la banca X a estrarre maggior valore dalla clientela wealth, dai ricchi, ad aiutare le aziende a vendere di più, net net. Ecco, a me questa cosa avevo capito, che continuavo a stressare il fascino intellettuale di tutto questo sistema, perché sentivo una fortissima mancanza sul perché facevo quello che facevo. Non mi dava più senso. Ale, entro in crisi buio totale, ma adesso cosa faccio? Anche perché voglio dire, il mio ruolo è un ruolo professionale abbastanza atipico, quindi so perfettamente che il mio è un mercato diverso da quello che può essere il mercato di un data analyst o di un data scientist che lavorano con me. Vi ricordate Excel, XCDL, non ho passato l'esame, mi ha aiutato il professore, non è cambiato tanto da allora. A un certo punto mi contatta la CEO di un'azienda che si chiama Life Feed, è un'azienda che si occupa di formazione aziendale. Mi dice, guarda, io ho letto un po' di notizie Google, ho parlato con un nostro collega che lavorava con te prima, ho visto quello che hai fatto in quella realtà e vorrei che tu venissi qui a fare la stessa cosa ma per un altro motivo. Non si trattava più in questo caso di analizzare dati sui clienti finali delle aziende da una prospettiva psicologica per aiutare le aziende a vendere di più, ma si trattava di analizzare dati sulle persone che lavorano in azienda, sempre in una chiave psicologica, per aiutare le aziende a farle stare meglio e a valorizzare, questa è la particolarità, tutte quelle competenze che le persone sviluppano nella vita personale, non sul lavoro, comprese quelle dimensioni di vita, quei ruoli che spesso il mondo del lavoro considera un problema. Vabbè, io a quel punto non ho più capito niente, nel senso che ho sentito di aver trovato un modo per continuare a fare quello che facevo prima per un altro purpose, ne avrete sentito parlare tanto, per me oggi prima facevi la domanda Giulio a Marco, posso farmela da sola, che cosa cerchi in una persona quando fai un colloquio? Una persona che mi convinca dal punto di vista del perché vuole fare le cose, del perché vuole fare quel lavoro, non tanto di quanto sia bravo tecnicamente a farlo, lì ci si lavora. Che cosa ti muove? Voi avete un grande potere, voi avete il potere di cambiare le cose, tutti ce l'abbiamo, ma voi ce l'avete più degli altri e questo è qualche cosa che chi è consapevole del potere che ha, è consapevole del fatto di poter avere un impatto per creare un futuro migliore, non voglio fare il santone di turno, veramente io non lavoro, questa è un'azienda profit, l'iFeed è un'azienda profit, ha impatto sociale ma non è una onlus, i missionari stanno da un'altra parte, però c'è un modo con il nostro lavoro per dare un beneficio non solo al nostro conto economico e al nostro ego, perché è anche un fatto di ego, ma per fare anche qualcosa per gli altri e quindi torno un attimo indietro perché questi sono i dati con cui io lavoro oggi, mi sento in un periodo di grande crescita personale e professionale con in testa un bel sogno per il futuro, in questa fase di cambiamento sono uscita da un periodo turbolento e stressante ma non ho ancora riacquistato la serenità e mi sento molto stanca, da qualche tempo mi sento perso, come se fossi in mezzo al mare dove non c'è una minima traccia di terra ferma, queste sono riflessioni degli utenti che partecipano ai percorsi di formazione di l'iFeed, sono percorsi digitali basati su una tecnica che è la tecnica dell'autoriflessione, quindi le persone scrivono, scrivono un sacco, è quasi come se fosse un diario e io analizzo tutte queste riflessioni, ovviamente da una prospettiva psicologica, queste sono le riflessioni che le persone hanno scritto in risposta a questa domanda che è dove senti di essere in questo momento della tua vita? Ed è una domanda che noi facciamo sempre alla fine e all'inizio e alla fine di ogni percorso, anche per vedere che cosa cambia e che cosa emerge da queste riflessioni, emergono emozioni e stati d'animo per lo più, emerge nel primo caso un senso di motivazione, di crescita, anche di autoconsapevolezza, nel secondo caso emerge fatica, stanchezza, stress, nel terzo caso emerge disorientamento, incertezza, tutte informazioni di cui tipicamente le aziende non si preoccupano e non si occupano quando si tratta dei propri collaboratori, eppure sono strettamente collegate al benessere, che è tra le principali motivazioni alla base della retention delle persone in azienda, problema non da poco da un punto di vista poi economico. Questo per esempio è quello che è emerso da un'analisi, quali quantitativa, quindi si tratta di analizzare questi dati prima in una chiave qualitativa, per individuare quali sono le emozioni prevalenti e poi di misurarle quantitativamente. Questa era la situazione di un'azienda, delle persone in un'azienda, vedevamo che il dato prevalente parla di disorientamento, incertezza, segue la consapevolezza, poi la motivazione, la crescita. Ogni azienda ha persone che stanno in modo abbastanza diverso. Ma, vi dicevo prima, c'è questo dato dell'osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico con cui lavoriamo, che dice che solo il 9% delle persone dice di stare bene su tutte le dimensioni del benessere. Quindi come può un'azienda non occuparsi delle emozioni che le proprie persone esprimono? Eppure il marketing... scusami, intendi le persone lo dicono al lavoro? Al lavoro, al lavoro. La cosa paradossale è che io mi sono sempre occupata di neuromarketing, quindi di studio delle emozioni dei clienti finali da parte dei brand per vendere meglio. C'è pochissimo quando si tratta di studio delle emozioni da parte delle aziende sui propri collaboratori per farli stare meglio, per motivarli di più. Questo è un esempio, un altro esempio di dati con cui noi lavoriamo, sono i ruoli di vita delle persone. Questo è un esercizio, si chiama Multimee Finder, è un esercizio in cui le persone si descrivono, indicano quali sono i ruoli di vita che sentono di avere. Io per esempio sono una figlia, sono una sorella, sono un'amica, sono una manager, sono un'appassionata wannabe di corsa. Questi sono i miei ruoli. Le persone si definiscono all'interno di questi ruoli con dei tratti caratteriali e qui ritorna la personalità. L'esercizio funziona proprio in questo modo. Ci sono tratti caratteriali con cui le persone si definiscono in più di un ruolo, lo stesso tratto. Tratti caratteriali con cui si definiscono in un solo ruolo, in tutto sono 36 e sono tratti da un modello sviluppato dalla Kellogg School of Management che è nostra partner di ricerca. e se ci fate caso alcuni di questi tratti, affettuosa, giocosa, spiritosa, secondo sono tratti che potremmo definire positivi. Potremmo definirlo ma ci sono motivazioni scientifiche perché queste caratteristiche sono collegate a delle competenze, secondo la letteratura scientifica. Per esempio l'essere affettuosi è collegato alle competenze relazionali, l'essere spiritosi è collegato sia alle competenze relazionali sia alle capacità di innovazione. Bene, essere responsabili è collegato alle capacità di leadership, c'è tanta letteratura che ha dimostrato questo legame, ha dimostrato che essere responsabili, fantasiosi, affettuosi, tradotto nei comportamenti quotidiani sviluppa queste competenze. Ecco che questa è un'altra analisi dati che io faccio quotidianamente, che non è tanto una misurazione di quante competenze hanno le persone in azienda, perché è pieno di assessment che misurano le competenze, dicono questo è più forte sull'empatia, qui invece abbiamo la capacità di innovazione più spiccate, qui invece meno innovazione ma più organizzazione, ok. Ma prima abbiamo visto una cosa che è totalmente dimenticata dalle aziende, che sono i ruoli di vita personali. quindi i dati su cui io mi interrogo ogni giorno riguardano dove sono le competenze delle persone. Questo è un esempio dell'azienda che vi mostravo prima. Ci sono capacità, tipicamente quelle collegate alle competenze relazionali ed innovazione, che sono molto più utilizzate nei ruoli di vita personali, che sono gli stessi ruoli appunto, come vi dicevo, che portano le persone a essere spesso discriminate nel mondo del lavoro. Pensiamo alla maternità, pensiamo alla paternità. La paternità meno, ma per un motivo molto semplice, che è un motivo legato alla parità di genere anche nelle responsabilità di cura a casa. Qualora succedesse come in Finlandia, quindi stessa quantità di giorni di congedo per uomini e donne, allora la paternità diventerebbe per le aziende un problema, tanto quanto la maternità. Elisabetta Franchi, non per sollevare un polverone, voglio dire errore di comunicazione madornale, ma non ha fatto altro che far emergere un punto di vista di quanti imprenditori italiani, la maggior parte. Quello che cerchiamo di fare è ribaltare la prospettiva, usare i dati per dimostrare alle aziende che in tutti quei ruoli che oggi costituiscono un ostacolo alla carriera, le persone sviluppano delle competenze fondamentali anche per il lavoro. E quindi il why è un cambio culturale. Chiediamo poi alle persone che cosa succederebbe se provassero a trasferire un loro talento, una loro caratteristica da un ruolo di vita a un altro, per esempio da casa al lavoro. E questo è quello che leggiamo, ci dicono alleggerirei il lavoro dei collaboratori, renderei il clima più piacevole e coeso, magari stemperando l'ansia sul lavoro. Non mi perderei più momenti unici con le mie figlie, qui in questo caso il suggerimento era di trasferire un talento dal lavoro a casa, perché non è unidirezionale. Analizzerei le situazioni attorno a me che necessitano di miglioramento e troverei dei modi nuovi e non convenzionali per iniziare a cambiarli meglio, senza paura del fallimento. Nel primo caso probabilmente veniva suggerito alla persona di trasferire un tratto associato a una competenza relazionale da casa al lavoro, nell'ultimo caso un tratto legato all'innovazione. Nella maggior parte dei casi, quando alle persone viene chiesto che cosa succederebbe, sempre da un'analisi quali quantitativa, emerge, è il caso di questa azienda, è abbastanza in linea con la media. Nel 65% dei casi emerge benessere, efficacia, queste sono le risposte a queste dimensioni che possono essere ricondotte le risposte delle persone e c'è questo 25% di persone resistenti. Allora siamo andati a leggere i dati proprio di quel 25% per capire perché queste persone non vorrebbero usare una capacità, una caratteristica che hanno a casa anche sul lavoro. E ci siamo accorti che tutte queste resistenze riguardavano esclusivamente il suggerimento di trasferire tratti relazionali da casa al lavoro, essere affettuosi, essere caring, quindi premurosi, essere anche teneri, essere spiritosi. Queste riflessioni per esempio fanno pensare, non credo sia corretto portare in ambito lavorativo, l'essere affettuosi. Sarebbe in profondo contrasto con il ruolo che ricopro in azienda e verrebbe penalizzata la mia professionalità. Qui si parla della cultura aziendale. Si parla proprio della cultura aziendale, quindi abbiamo capito qual è il tema, non è che le persone non vorrebbero farlo, ma le persone ritengono che questo non sia appropriato per la realtà aziendale in cui lavorano, dove essere spiritosi e affettuosi è considerato fuori luogo, non appropriato, è qualche cosa che potrebbe anche diminuire la tua autorevolezza percepita. Chiara ascolta, che dobbiamo purtroppo andare in chiusura perché io restare ad ascoltarti tanto tempo perché mi interessa molto questo tema, è un tema molto caldo, come vedete come utilizzare il digitale che sembra qualcosa spesso di molto solo analitico freddo con delle tematiche molto soft e calde. Io ti faccio quest'ultima domanda così poi lasciamo spazio alla prossima speaker. Una professionalità di questo tipo, un ambito dove psicologia si collega all'analisi dei dati, tu vedi che nel mercato del lavoro sta crescendo, c'è opportunità per dei ragazzi come loro che sono interessati a unire psicologia e umanistica sulla parte digitale dei dati, ti sembra che ci sia una crescita in Italia, nel mondo? Io trovo che ci sia una crescita in Italia e nel mondo per tutte quelle competenze, per tutte quelle figure multidisciplinari, quindi che più che fare un, passatemi il termine, collecting dots, collezionare punti in un unico ambito verticale, fanno più connecting dots tra più ambiti, questo richiede una conoscenza, un profilo più di tipo generalista che non un profilo di tipo, servono entrambi, servono entrambi, vanno a combinarsi perché io non potrei lavorare senza persone che hanno un profilo tecnico, ma io non potrei lavorare nemmeno e quelle persone non potrebbero lavorare se io avessi un profilo tecnico e anziché generalista, credo che bisogna anche interrogarsi sulle proprie attitudini e quanto queste siano in linea con il tipo di lavoro che si cerca. Allora, un altro motivo per mettersi su LinkedIn è di andare a prendere il profilo di Chiara Baciglieri e seguirla, vederle le cose che fa, perché insomma... Rimaniamo in contatto, ma il cuoricino è andato sotto, ma... Il cuoricino è andato sotto, vabbè non importa, è importante che ci sia il cuoricino. Allora, Chiara, grazie mille, un applauso. Grazie a voi, grazie. Complimenti. Grazie a voi.